Attraversa la campagna di Ostia Antica fino all'abitato del quartiere Trepizzi-Bagnolo. Nonostante sia a tutti gli effetti una strada pubblica, Via della Macchiarella è priva di qualsiasi servizio, manutenzione, marciapiedi, illuminazione e decoro. Roma Capitale di fatto non l'ha mai presa in carico. La situazione della strada parla da sola. Le conette che si sono sviluppate negli anni perché non c'è stata manutenzione sono talmente alte che non consentono il deflusso dell'acqua. La strada non è illuminata, non è illuminata, non abbiamo il servizio di autobus. Il quartiere è abitato da tante persone anziane che avrebbero bisogno di tanti servizi, ma qui praticamente non ne abbiamo. L'abbandono di questo quartiere poi attira tutte quelle persone che vengono qua a scaricare e a gravare ancora di più una situazione che già di per sé è grave. Quando l'acqua non riesce a defluire ai lati della via perché le conette impediscono all'acqua di defluire. La strada s'allaga, ci sono le macchine che perdono il controllo e quindi diventa sempre un vivere nella difficoltà, nel pericolo. L'inverno specialmente quando la luce viene a mancare prestissimo abbiamo difficoltà a percorrere questa strada insicurezza, ma soprattutto per i pedoni e per i ciclisti. A me fa piacere che ci siano delle cose praticamente manifestazioni sportive, però qui tutti i weekend e festivi c'è un maneggio internazionale e qui passano anche mezzi pesantissimi e la viabilità, la gareggiata è quella che è. Senza luci, senza niente, corrono come matti. La mondezza, c'è uno sti canale pieno di mondezza. Non sa quant'orto abbiamo fatto le cose all'AMA per raccogliere questa mondezza? Perché poi più la buttano e più ci buttano l'altra. Beh, noi non ci avevamo mani ancora, aspettiamo che la depilla ci ricevi. Tempo fa abbiamo fatto un sopralluoco con l'assessore all'ambiente, un rappresentante dell'AMA per un preventivo per la pulizia di questa strada, ma da allora sono passati già qualche mese non si sa niente, non si sa nulla. Tant'è vero che qui la mondezza aumenta giorno per giorno e servirebbero delle videocamere per cercare almeno di arginare questo fenomeno. Io qua, non dico sempre, ma quasi tutte le domeniche mattina o domenica pomeriggio esco da casa con la carriola, riempio i sacchi, poi mettono di davanti casa per l'indifferenziata della corta del lunedì mattina. Il decimo municipio è stato sollecitato in diverse circostanze, ma ancora non è chiaro quali azioni intende intraprendere per rispondere alle questioni mosse dagli abitanti della zona. Per gli attuali amministratori il tempo sta per scadere, dunque quella di Via della Macchiarella rischia di essere l'ennesima occasione persa.